Vogliamo capire non solo come sono andate le cose ma anche quali sono le responsabilità perché non dimentichiamo che il lavoratore è soggetto a controllo medico specialistico comunque e lo aveva ricevuto positivamente pochi giorni prima. Quindi il fatto che poi si sia manifestata questa mancanza di lucidità assoluta, questa violenza nei confronti di un nostro dipendente ci ha messo molta attenzione e quindi faremo anche un'inchiesta interna. Il comune di Arezzo vuol far piena luce sul fatto di sangue che si è consumato ieri mattina negli uffici della manutenzione in via Tagliamento dove un operaio di 59 anni ha ferito alla gola un geometra 47enne sferrando un fendente con un coltello che si era portato da casa. Un'aggressione improvvisa e ingiustificata tra i due infatti non ci sarebbe stato alcun diverbio. La vittima ha riportato una ferita all'acero contusa alla gola che i medici dell'ospedale San Donato dove è stato ricoverato hanno giudicato guaribile in 20 giorni. L'ho visto ieri molto provato, devo dire lui si è impaurito ovviamente tantissimo, l'ho visto che era già stato operato, era già stato ricuscito e quindi fisicamente sta bene, ora si deve riposare veramente tanto. L'accoltellatore poi si è dato alla fuga per presentarci un'ora dopo nella caserma del comando provinciale dei carabinieri manifestando l'intenzione di costituirsi. È stato così trasferito nel carcere di Arezzo con l'accusa di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Il 59enne 25 anni fa aggredì con le stesse modalità anche un altro collega negli spogliatoi del deposito di manutenzione. Fu giudicato all'epoca incapace di intendere volere e trascorse così un periodo nel manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino. Da tempo era in cura e periodicamente soggetto a valutazioni. Lo scorso marzo era stato giudicato idoneo a continuare il percorso lavorativo. Lo so perché oggi è stato ricostruito, non lo sapevo un giorno, ieri mattina presto non lo sapevo. È un motivo in più per capire perché si possono determinare questi episodi. Voi sapete che la tutela dei lavoratori è un fatto fondamentale per un'amministrazione pubblica. Noi dobbiamo sostenere e dobbiamo tutelare i lavoratori, ovviamente tutti e quindi anche chi è potenziale oggetto di atti di violenza che però fino a ieri mattina, nonostante il fatto di 25 anni fa, da un punto di vista clinico c'erano stati del tutto esclusi.